Grazie di averci invitato e di averci dato la possibilità di presentare questo nostro progetto. Io sarò velocissimo perché mi sembra opportuno, abbiamo parlato tantissimo noi adulti, vorrei lasciare la parola a Matteo, ai nostri studenti, perché spessissimo noi parliamo dei nostri studenti come dei ragazzi che non lavorano, che non hanno voglia di fare, invece se li indirizziamo, li seguiamo, poi i risultati vengono. Questo nostro progetto lo presenterà lui, io ho da ringraziare con immenso piacere la Polizia Municipale di Torino perché con loro abbiamo iniziato questo lavoro, in sala c'è la dottoressa Loiacono e il dottor Walter Gerbi con il quale Matteo e i nostri ragazzi non lo chiamano ispettore o comandante, eccetera, ma Walter o Marcello, siamo riusciti ad ottenere questo in questi anni, mi sembra che è un risultato molto positivo. Per quanto riguarda invece le nostre attività, si sono poi sviluppate con la collaborazione delle altre istituzioni, la Questura, la Polizia Postale, l'Arma dei Carabinieri con il generale Lavac che è venuto nel nostro istituto, abbiamo fatto diverse collaborazioni, in più con le Mollinette di Torino, con il professor Munno per quanto riguarda le dipendenze dai rischi della nuove tecnologie, abbiamo fatto degli studi, degli approfondimenti. Matteo Giardino è un nostro ex studente dell'Avogadro, quest'anno frequenta il Ferrari, che è lei per cui quest'anno si è trasferito, però in un discorso di rete che adesso spiegherà lui, vi dirà un po' anche quale sono state le tappe per arrivare a questa realizzazione del progetto. Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto ringrazio il dottor Suraniti che ha delineato il mio profilo biografico. Forse anche un po' esagerato, dai. Va bene. Allora, io oggi sono qua perché voglio innanzitutto presentarvi il progetto Rieschi da nuove tecnologie. Quando si preparavano queste slide le abbiamo incentrate più che altro appunto su fare una specie di cronaca di questo progetto, però credo che dopo la mattinata che abbiamo trascorso stamattina, forse sarebbe più interessante se, piuttosto che raccontare cosa abbiamo fatto nell'ambito di questo progetto, forse è meglio che io racconti cosa ci è arrivato da questo progetto. Allora, questo qui è un progetto che è nato nel 2009, è nato in collaborazione con la Polizia Municipale di Torino ed è un progetto avviato in forma sperimentale perché è molto diverso dai progetti che si svolgono generalmente nelle scuole. È un progetto che non è il solito svolgere delle lezioni frontali con dei docenti o degli esperti che vengono in classe, vengono a scuola e ti illustrano, ti spiegano le problematicità delle nuove tecnologie, ma è un progetto dove noi studenti siamo stati chiamati direttamente a fare ricerche, a riflettere, a discutere con gli esperti della Polizia Municipale e anche a produrre degli elaborati che funzionano come sintesi di quello che è stato detto, di quello che è stato affrontato durante gli incontri con la Polizia Municipale e anche le visite presso i laboratori del Nucleo Investigazioni Scientifiche e Tecnologiche della Polizia Municipale. Soprattutto queste visite presso i laboratori di informatica forense sono state decisamente importanti per noi perché ci hanno permesso da un lato di capire la Polizia come interviene quando si deve operare in un'indagine di informatica forense ma anche di capire in che modo tutto quello che noi facciamo con mezzi tecnologici sia tracciabile sia rilevabile anche dopo periodi di tempo parecchio lunghi. Una delle tappe più importanti di questo progetto è stato il cortometraggio di cui avete visto il trailer è una parte, rischi da nuove tecnologie, riflettiamo insieme. Questo è stato il compendio di due anni di lavoro con la Polizia Municipale. Qui vedete alcune foto realizzate nei laboratori della Polizia Municipale. Questo progetto è stato particolare perché si è svolto secondo una modalità peer-to-peer e quindi imparare tra pari, cioè gli esperti della Polizia Municipale si sono tra virgolette abbassati al nostro livello per cercare di capire come noi percepiamo le nuove tecnologie e come percepiamo le problematiche che da questi possono derivare. E questo è molto importante perché secondo me è inutile che venga una persona a dirci che le nuove tecnologie sono pericolose, cerchiamo di limitare l'utilizzo delle nuove tecnologie. Perché se a me qualcuno viene e mi dice il tuo telefono è pericoloso, non lo usare, io lo uso ancora di più. Si dico questo non ha capito niente, cosa vuole da me e lo uso ancora di più. Ed è proprio questo che bisogna cercare di evitare, ma bisogna piuttosto cercare di riflettere con noi, di capire come noi percepiamo il mezzo e di farci riflettere sui pro e sui contro che ci sono perché è inutile andare a demonizzare uno strumento tecnologico quale Facebook, quale il telefonino, quale il computer o qualunque altro strumento tecnologico perché è assolutamente controproduttivo, anzi si innesca magari ancora un atteggiamento di sfida che noi assumiamo magari nei confronti dell'adulto che è venuto a dirci non lo usare perché è pericoloso. E poi comunque è dato certo che ogni strumento può anche avere dei benefici, ad esempio Facebook può anche essere utilizzato in classe nell'ambito scolastico per scambiarsi magari appunti, informazioni riguardo alle scadenze verifiche e cose varie. Sicuramente ci sono anche tutte le problematiche discusse prima che ovviamente sono innegabili, ci sono, però comunque bisogna cercare di fare una sorta di bilancio secondo me. Un'altra cosa importante come vi dicevo prima è l'approccio del coinvolgimento diretto, cioè non mandare un esperto che venga a dirmi le cose, ma mandare una persona che cerchi di aiutarmi a riflettere. Perché una lezione dopo 20 minuti io magari già non la seguo più, perché o è noiosa o mi addormento, intervento, invece un dialogo sicuramente mi mantiene più attivo, mi fa riflettere e mi permette di apprendere molto e molto di più. Nell'ambito di questo approccio l'Avogadro non ha attivato solo il progetto delle nuove tecnologie, ma ha attivato anche altri due progetti riguardo sicurezza scuola e sicurezza stradale che ci permettono di completare un discorso di sicurezza a 360 gradi. Tutti questi progetti sono svolti con lo stesso approccio, i docenti svolgono il ruolo di coordinatori e supervisori, mentre sono gli studenti che interagiscono direttamente con gli esperti e con le istituzioni. Molto importante l'impatto che questi progetti, in particolare quello sulle nuove tecnologie, hanno avuto sulla comunità scolastica. Innanzitutto ci ha permesso appunto di prendere coscienza delle problematiche che derivano dalle nuove tecnologie e anche di comprendere le conseguenze che possono derivare qualora vengano commessi i reati con queste strumentazioni. E questo è molto importante perché prima degli incontri, prima che la Polizia Municipale arrivasse a spiegarci queste cose, sicuramente la consapevolezza delle conseguenze di un reato commesso per mezzo delle nuove tecnologie non c'era e può darsi che non c'era nemmeno la consapevolezza che si potessero commettere dei reati con questi strumenti. Inizialmente il progetto è iniziato solamente nell'Avogadro e poi è seguita la formazione della rete Sicurezza Scuola e nell'ambito di questa rete il progetto è stato esteso da tutte le scuole aderenti alla rete stessa e ci sono stati degli interventi di formazione per cercare di condividere quello che avevamo imparato noi e sono andato anch'io a fare formazione con il professor Mandarano e con la gente di Lella proprio perché si voleva evitare che il dialogo fosse unilaterale cioè la mia presenza era giustificata dal fatto che io portavo l'opinione degli studenti. E questi incontri sono stati decisamente apprezzati perché abbiamo poi svolto un sondaggio per verificare il gradimento rispetto agli interventi e anche rispetto agli argomenti perché chiaramente il grado di interesse riferito a una particolare tematica può essere decisamente diverso. Rispetto alla valutazione degli studenti che sono stati 490 studenti quindi un campione statistico non enorme ma comunque già abbastanza significativo si vede che la maggior parte hanno dato una valutazione tra l'8 e il 10 quindi siamo su più di 200 studenti che hanno valutato l'incontro tra 8 e 10 e quindi questo sicuramente può essere considerato un buon risultato. Molto importante sono le collaborazioni con l'esterno nell'ambito di questo progetto abbiamo collaborato con le istituzioni più diverse con la polizia municipale con l'arma dei carabinieri con la polizia delle comunicazioni con l'università di Torino e l'azienda ospedaliera città della salute e scienza di Torino in particolare con l'ambulatorio delle molinette che si occupa di dipendenze da nuove tecnologie e poi con l'ufficio scolastico regionale ovviamente. Vi faccio brevemente vedere il sito di riferimento del progetto che è il sito dove voi potete trovare testimonianza di tutto ciò che abbiamo fatto e scaricare tutti i materiali prodotti in particolare nella sezione materiale informativo trovate una serie di dispense materiali che vi possono essere utili per interpretare al meglio la tematica e per approfondire determinate argomenti che dal mio punto di vista possono essere molto interessanti e poi la sezione video dove abbiamo raccolto alcune trasmissioni televisive a cui noi abbiamo partecipato e poi appunto come vi dicevo prima il risultato più significativo che è il video rischi da nuove tecnologie. Io ho finito, vi ringrazio per l'attenzione e buon proseguimento. Grazie e buona giornata. Grazie. Grazie. Grazie.